Prende il via la decima edizione di Sicilia in bolle tra qualche minuto e consentitemi di dire che finalmente ci siamo e iniziamo questa ennesima edizione. E' il frutto di mesi di preparazione quindi ecco il finalmente ci siamo perché è come una sorta di emozione sempre quella dell'inizio ma nello stesso tempo è come quasi una liberazione perché ci spariamo questi tre giorni alla grande e quindi concludiamo questo evento di un certo livello. Iniziamo con una bellissima Masterclass che abbiamo voluto dare per dare così il là alla manifestazione alle donne del vino, un'associazione che cresce sempre più, la Sicilia insieme alla Puglia che saranno le protagoniste di questa Masterclass sono le regioni che forse hanno il maggior numero di iscritti quindi a loro l'inizio. Proseguiremo poi con un'interessantissima Masterclass sul Catarratto è un'idea che da mesi ci anche fa piacere che sta portando avanti anche l'Istituto Regionale di Vito e Olio di Sicilia quindi siamo ben lieti di dare il nostro contributo con una Masterclass spumante quindi da catarratto e poi gli altri dei giorni che si vivranno domani e dopodomani. Quindi AIS è molto attenta alla produzione delle bollicine ma non solo. La nostra è un'associazione che lavora tantissimo sul territorio quest'anno abbiamo avuto un incremento di quasi il 70% dei corsi fatti in tutta la nostra regione collaboriamo molto con tanti istituti e alberghieri. Abbiamo fatto e rifaremo dall'autunno prossimo diversi appuntamenti di specializzazione quindi dopo che uno diventa sommelier offriamo momenti di formazione aggiuntiva con dei Master mirati sul servizio, sui degustatori e altre figure specializzate. Nel frattempo sono partiti i panel per la guida di AIS Italia quindi ci verranno impegnati in cinque panel le dislocate in tutta la regione a degustare direi migliaia di vini per la prossima guida di AIS Italia poi in Sicilia a Macchio di Leopardo faremo diversi appuntamenti come qualcosa il 10 di agosto sui vini sotto le stelle in diversi posti e anche altre attività durante il periodo estivo e poi da settembre formazione e vari eventi e Masterclass in tutta la nostra regione. Buongiorno a tutti siamo qui alla decima edizione di Sicilia in Bolle oggi iniziamo questa manifestazione con un'apertura speciale è una Masterclass dedicata alle donne del vino le donne del vino non solo vini siciliani ma anche vini pugliesi per cui faremo questo binomio tra Puglia e Sicilia e anche i diversi metodi di spumantizzazione è un onore per me insieme a Grazia Di Paola e insieme alla rappresentante della Puglia descrivere un po' tutte le realtà vitivinicole siciliane e pugliesi siamo qui a Casa Diodoro in una bella location dove naturalmente la Valle dei Templi è maestosa e significativa per tutto il territorio quindi spero ecco con questa apertura della nostra Masterclass dedicata alle donne del vino che sia una decima edizione veramente brillante Buonasera a tutti sono Marianna Cardone e sono la vicepresidente nazionale dell'associazione le donne del vino sono in triplice veste questa sera qui come produttrice perché rappresento la terza generazione della mia azienda di famiglia Cantine Cardone a Locorotondo e la delegazione Puglia che è stata invitata dalle donne del vino Sicilia a questo bellissimo pairing fra bollicine pugliesi e bollicine siciliane nel bellissimo evento di Sicilia in bolle quindi onorate di aver accettato questo invito nella location dove è tutto possibile è tutta una suggestione che aiuta tantissimo noi che produciamo vini sartoriali, vini artigianali della Valle dei Templi quindi il nostro è un ringraziamento in particolare alla delegazione Sicilia ma soprattutto all'AIS Sicilia che ha organizzato questo meraviglioso evento di promozione delle bollicine siciliane eventi di questo genere ci danno la possibilità di conoscere realtà che non sono assolutamente diverse, sono solo lontane per chilometri ma sono accomunate da un valore aggiunto che è quello dell'imprenditoria femminile questa sera ho conosciuto altre socie della delegazione Sicilia e mi sarebbe piaciuto che fossero qui con me le colleghe della Puglia e quindi questo è diciamo uno sprono a fare ancora nuovi eventi di questo genere ci sembra di essere magari sempre sole ad affrontare le nostre difficoltembre imprenditoriali e del mondo del vino ma quando si frequentano eventi di questo tipo e si conoscono colleghe che vivono le stesse difficoltà come le stesse piacevolezze, gli stessi vantaggi e le stesse emozioni di fare questo lavoro beh è come una pacca sulla spalla è un incentivo a fare sempre di più e sempre meglio soprattutto insieme perché si vince insieme non si vince da sole grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.